hey i 10 comandamenti sulla batteria sulla manutenzione della batteria del carrello elevatore del muletto ciao io sono Joe in questo video guarda tutto il video perché come al solito ho inserito al suo interno uno sconto e adesso andiamo a vedere quali sono i 10 comandamenti per mantenere sempre in perfette condizioni la tua batteria sigla mantenere sempre la batteria dei muletti in perfette condizioni ti permette di non avere sorprese all'interno del tuo magazzino quando la batteria del carrello elevatore scarica significa che il carrello è fermo e di conseguenza stai perdendo soldi allora ecco alcuni consigli per mantenerla sempre in ottime condizioni questa è la logistica divertente mantieni sempre la batteria pulita asciutta e priva di corrosione ricorda di mantenere sempre il livello dell'acqua corretto aggiungere acqua solo dopo il ciclo di carica crea un calendario di rabbocco dell'acqua settimanale oppure bimestrale per garantire che i livelli dell'acqua siano sempre adeguati evita la ricarica saltuaria ed occasionale come ad esempio ricaricare durante le pause o le pause pranzo perché ogni volta che colleghi la batteria ad un caricabatterie ricordati che stai utilizzando uno dei suoi cicli di vita ispezionare la batteria ricarica non ci siano eventuali difetti o malfunzionamenti e chiedere al fornitore dei carrelli elevatori di ripararli soporre a manutenzione le batterie semestralmente proprio per aiutare a controllare l'acido e l'eventuale solfatazione e quindi partiamo con i 10 comandamenti per la manutenzione perfetta della batteria 1 aggiungere solo acqua approvata che di norma è acqua distillata o acqua deionizzata non aggiungere mai acido occhio 2 mantenere il livello dell'elettrolita al di sopra delle protezioni indicate sui tappi di ogni elemento e tenere la parte superiore della batteria pulita e sempre asciutta 4 tenere fiamme e metallo lontano dalla parte superiore della batteria occhio 5 tenere i tappi di sfiato ben saldi e 6 scaricare a non oltre l'ottanta per cento del suo potenziale 7 lasciare raffreddare la batteria prima di caricarla o metterla in funzione se la batteria è superiore ai 25 gradi le alte temperature riducono il ciclo di vita della batteria 8 mettere in carica una batteria ad esempio a 15 gradi allunga la durata del caricamento 9 utilizzare solo caricabatterie approvati con tensione corrente di uscita corrette e infine 10 tenere il vano del carrello e il coperchio della batteria aperti durante la carica e infine io ci aggiungo anche 11 in caso di dubbio chiamare responsabile dei carrelli elevatori va bene ma andiamo oltre perché voglio che questo video ti sia sempre utile quindi ti do ancora un paio di accorgimenti segui fino alla fine oltre ti raccomando queste altre precauzioni vietare il fumo vicino all'aria di cambio batteria disegnata occhio perché l'idrogeno esplode evitare di indossare gioielli metallici durante la ricarica delle batterie del carrello elevatore proprio per non fare scintille utilizzare attrezzature di movimentazione appropriate per il sollevamento e lo spostamento delle batterie pesanti e infine la sicurezza maggiore indossare dispositivi di protezione adeguati dpi occhiali di sicurezza guanti grembiule oppure la mascherina quindi in questo video ho finito spero di esserti stato utile che è sempre il mio scopo primario per questo faccio questi video divulgativi io ricorda che sono joe santonastase e questa è tuttologistica punto it carrelli ed attrezzature per il magazzino online